Sono Antonio Benerento, pizzaiolo nonché proprietario della frasca. Consentetemi di presentarvi alcuni prodotti preparati nel nostro locale, che variano dagli antipasti, che sono all'italiana, alla frasca, misto, e poi dai secondi piatti, che sono dallo spiedino, alla salsiccia alla brace, scamorze ferri, formaggi arrostiti, contorni vari, insalatissime, però il nostro piatto forte sono le pizze. Abbiamo una cinquantina di tipi di pizze, che variano dalla margherita, alla capricciosa, ai formaggi bianchi, alla 95, però il nostro forte delle pizze sono le pizze coche, che non vi dico come le preparo, ma vi invito a venirle a provare. Una rivederci a tutti quanti voi, vi aspetto numerosi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.